L'operazione della Guardia di Finanza di Ostia prende il nome dai Lotti e in questo complesso di palazzine popolari tra Viale Vasco de Gama e Via della Paranzella che operava una banda di spacciatori ben radicata sul territorio. Su richiesta della Procura di Roma sei persone sono finite in manette e una risulta al momento irreperibile. A dare impulso all'attività erano due donne che si avvalevano della collaborazione di incensurati per la retta e la distribuzione della droga ai singoli pusher. Questi ultimi erano organizzati in veri e propri turni di lavoro durante tutto l'arco della giornata. Le intercettazioni telefoniche e i pedinamenti hanno consentito di accertare che utilizzavano sempre la stessa utenza telefonica per ricevere gli ordini e concordare la consegna dello stupefacente. Lo scambio poi avveniva in stile Gomorra. Giunto sul posto l'acquirente veniva scortato dalle vedette fino ad una grata da dove lo spacciatore cedeva le dosi richieste. Operazioni rapide poco rischiose che permettevano alla banda di smerciare almeno 3 kg di droga al mese. Le indagini hanno preso il via agli inizi del 2015 ed hanno consentito di sequestrare complessivamente 4 kg di cocaina e diversi quantitativi di hashish, marijuana e crack. Nell'operazione odierna sono stati impegnati 40 finanzieri di Ostia e le unità cinofile del gruppo di Fiumicino. Gli arrestati sono stati associati alle case circondariali di Re Bibbia, Regina Celi e Velletri, mentre proseguono le ricerche per la cattura dell'ultimo soggetto ancora latitante.